Carissimi amici, siete tutti i benvenuti nel mio canale. Oggi vi porterò a scoprire gli avvincenti eventi che si svolgeranno nelle puntate del 4 e 6 agosto. Assisteremo a un momento decisivo per Ilmaz, il quale si trova ormai al limite delle sue forze, poiché prenderà Adnan e deciderà di partire con lui. La nuova puntata si apre con un momento toccante. Ankar sta scrivendo una lettera commovente a Demir. In questa lettera, Ankar confessa di conoscerlo meglio ora e di comprendere i sacrifici che ha fatto per lui. Ha dedicato tutta la sua vita alla felicità di Demir, mettendo da parte se stessa. In passato, credeva che le madri potessero realizzare la felicità dei propri figli, ma ora ha compreso che questo comportamento ha ferito molte persone. Nonostante tutto, Ankar è disposta a sacrificarsi infinite volte per lui, ma promette di non ferire mai Zuleya. Ha sofferto abbastanza. E anche Demir gli chiede di rispettare le sue volontà e di smettere di nuocere a Zuleya. Di abbandonare l'ostinazione e il rancore. Proprio come lei sta facendo nei confronti di Demir. Ankar ha solo bisogno di amore, misericordia e pace. Chiede a Demir di comprendere il suo desiderio di passare gli ultimi anni della sua vita con Fekeli e di essere finalmente felice. È arrivato il momento per lei di trovare serenità. Proprio come ha rispettato la scelta di Demir di seguire i desideri del padre. Ritornando alla trama principale, Demir confida a Gulten di aver creduto che Zuleya fosse la sorella di Ilmaz. Tuttavia, nonostante questo, l'ha amata profondamente e ha deciso di sposarla anche quando ha scoperto che era incinta. Demir ha accolto il bambino come se fosse suo, dando a lui il nome del padre, la persona che amava più di ogni altra cosa al mondo. Da quel momento in avanti, il bambino è diventato la cosa più preziosa per Demir. Egli aveva creduto che questa verità non sarebbe mai venuta a galla, soprattutto considerando che Ilmaz era in prigione e il suo destino era avvolto dal mistero. Era quasi impensabile che Ilmaz sarebbe tornato, ma alla fine è successo. Dopo essere stato rilasciato, ha sposato la dottoressa Mugeigan e i due hanno avuto un figlio. Ora Ilmaz ha scoperto che Adnan è suo figlio biologico, ma questo non cambia il fatto che Adnan sarà sempre considerato suo figlio. In un momento cruciale, Demir si alza e si avvicina a Ilmaz, dichiarando con forza che, nonostante la biologia, lui è il vero padre di Adnan. Ilmaz inizia a contestare, ma Demir spiega che sta cercando di spiegare il motivo della loro faida e che Adnan resterà sempre suo figlio. Ilmaz ricorda di aver detto ad Allah, quando li ha visitati in prigione, che Zuleyya era sua moglie, ma Demir risponde che la amava veramente e se avesse saputo fin dall'inizio che Zuleyya non era sua sorella. Nulla di tutto ciò sarebbe accaduto. Demir offre la pace a Ilmaz davanti a tutta Cucurova, tendendo la mano verso di lui, ma Ilmaz la rifiuta, affermando che tornerà a riprendersi Adnan il prima possibile. In seguito, Ilmaz finge di andarsene, ma di nascosto si intrufola nella villa e va nella camera di Adnan. Lo prende in braccio e se lo porta via senza essere visto. Nel frattempo, Saniai assiste a tutto senza intervenire. Quando Fekeli torna in ditta, racconta a Cetin dell'agguato subito e Cetin rivela che Ilmaz è andato da Adnan. Fekeli, dopo aver detto a Cetin di avvisare i gendarmi che Fikret sta inseguendo gli attentatori, se ne va. Nel frattempo, nella villa, Zuleyya chiede a Demir perché non ha mai rivelato di essere stato costretto a sposarla. Demir risponde che l'unica verità che importa è che Adnan è suo figlio. Ma vengono interrotti da Gulten, che avvisa che Adnan è sparito. Tutti iniziano subito a cercarlo, e Demir accusa Gulten di averlo consegnato a Ilmaz e la minaccia di conseguenze. Tuttavia, Gulten nega di averlo fatto. In quel momento, arriva Fekeli e Demir ripete le accuse contro Gulten. Fekeli difende Ilmaz, sostenendo che lui non avrebbe mai fatto una cosa del genere, e si porta via Gulten con sé. Demir, furioso e confuso, accusa anche Zuleyya di aver contribuito alla scomparsa di Adnan. Adnan raduna tutti i lavoratori e ordina loro di armarsi e seguirlo, determinato a trovare suo figlio. Mentre tutto ciò accade, Ilmaz trascorre del tempo con Adnan, mostrando con orgoglio a tutti i vicini di essere il vero padre del bambino. Nonostante la confusione e la tensione nella villa, Zuleyya è disperata e pensa che Ilmaz abbia rapito il piccolo. Sta persino prendendo in considerazione l'idea di fuggire con lui insieme ad Adnan. Nel frattempo, Ilmaz desidera solo trascorrere del tempo con suo figlio e dimostrare a tutti che Adnan gli appartiene. Dopo una passeggiata in città con il piccolo, Ilmaz lo restituisce a Zuleyya, spiegandole che ora tutti sanno la verità. A casa, Saniyai è angosciata per le sue azioni e viene raggiunta da Gaffur, che ripete le accuse contro Demir e suggerisce che Demir stia impazzendo. Saniyai confessa a Gaffur che Gulten è innocente, poiché Ilmaz ha rapito da solo il bambino. Gaffur chiede perché non ha impedito tutto ciò, ma Saniyai risponde di non aver avuto il potere di intervenire. Gaffur la minaccia, affermando che la ucciderà, ma le promette che Gulten è al sicuro. Nel frattempo, Beaccais trova una serie di passaporti falsi nella stanza di Fikret e lo mostra a Fekeli, mettendo in dubbio l'identità del giovane arrivato. Nel frattempo, Fikret cattura Erol, uno degli uomini che cercava di acquistare terreni a Cucurova dai proprietari. Dopo averlo torturato, Fikret scopre il nome dell'uomo d'affari che sta cercando di prendere il controllo della città, il sottosegretario Cecchirceli, che viene successivamente arrestato. Nel frattempo, il paese tributa onori ufficiali a Fikret per le sue azioni, ma Beaccais resta scettica nei confronti del nipote e gli mostra il passaporto falso che ha trovato. Questa scoperta sconvolge Fekeli, che inizia a dubitare delle reali intenzioni di Fikret. Si chiede se il giovane voglia ucciderlo per ottenere l'eredità, come sostiene Beaccais, e perché, allora, lo abbia salvato dall'attentato. Questi dubbi gettano ombre sulla fiducia che Fekeli aveva riposto nel nipote, e la situazione si complica ulteriormente. Tutto ciò porterà a sviluppi cruciali nella trama, e nelle prossime puntate scopriremo quale direzione prenderanno le vicende. La tensione e il mistero si intensificano, lasciando spazio a nuove e sorprendenti rivelazioni. Siete curiosi di sapere cosa succederà? Le anticipazioni terminano così. La puntata è iniziata con la scena di Ankar che scrive un importante testamento lettera a suo figlio Demir, il quale avrà un impatto significativo sulla storia di Terramara. Non voglio rivelare troppo, ma il testamento di Ankar darà vita a momenti drammatici e cruciali. Se desiderate conoscere come si evolverà la trama, vi invito a lasciare un bel mi piace e a iscrivervi al canale, così da non perdervi le prossime anticipazioni di, Terramara. Ci vediamo al prossimo video, ciao!